il giorno dopo mi chiamano dalla conserge di nuovo il professore mi scusi ma c'erano di nuovo i poliziotti perché? dice che cazzo è un'altra dice che per favore può venire ero per caso di stanza dico vabbè vengo cosa succede? dovevamo consegnarle un'altra carta ce la siamo scordate c'era un altro a pezzo io lo guardo non state mica bene ce l'avevo già siete già venuti per niente ieri sì ma c'è questa è la garanzia questa è la sua garanzia deve avere la copia non le abbiamo lasciato la copia mi veniva da piangere allora uno stato che funziona così c'è un problema da qualche parte di esseri umani perché questa è una roba da demente però queste cose allora si possono toccare qualcuno a Roma mi deve spiegare chi li ha scritti questi regolamenti capisce quello che voglio dire qui ci sono degli esseri umani concreti che sanno 60 anni fa che non sono mai stati aggiornati non esiste ma Alberto tesoro però qualcuno non li ha aggiornati c'era qualcuno che fa il direttore il caporeparto il capodivisione poi hanno tutti questi titoli io non li so bene come funziona? che non sta facendo il suo lavoro che non sta guardando in questo caso la polizia di Stato in questo caso il ministero dell'interno in relazione con il ministero della giustizia che chiaramente non sta che ponendosi il problema com'è che risparmio tre ore di lavoro perché alla fine qui si sono spostati in macchina la città era grande quindi oltre alla mezz'ora passata con me eravamo in tre fa un'ora e mezza di sicuro c'è l'andare andi rivieni in macchina ecco quindi sono tre ore di lavoro tirate nel cesso se lo moltiplico per milioni capisco il problema e qui dobbiamo lavorare su sta roba qua bisogna creare bisogna qui c'è bisogno ecco il partito avrà bisogno di gente veramente esperta di queste procedure perché c'è il trucchetto lì tutte le procedure sai eh ma c'è bisogno di gente che le sappia fare bisogna rifarle tutte digitalizzarle tutte io non so neanche mi sembra un buco nero la pubblica amministrazione io ma toccato ma sì io incomincierei enunciando il principio della perdita degli 8 milioni di voti e poi dopo dichiariamo pubblicamente di non voler di allocare una cifra importante per digitalizzarla ma la stanno è una vita che dicono di digitalizzarla sai che il il deposito che chiaramente non lo fanno perché questi qua disgraziati scrivono tutto a mano il deposito dei corpi di reato a Milano la più importante procura italiana è tenuto a mano è tenuto a mano poi allocare molto per e poi che Dio ce la mandi buono che Dio ce la mandi molto da dire questo pezzo della conversazione finirà rapido perché lì bisogna toccare tutto 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 da cima a fondo tutto e che Dio ce la mandi buono quindi tra l'altro occorre fare uno spoil system perdonatemi in Italia c'è questo pseudo spoil system che consiste nelle musical chairs con tra l'altro l'inverso del musical chairs perché in questo caso ci sono più chairs che persone perché c'è sempre si può sembrare che era una nobile perché sai questo io lo imparai a suo tema sai come funziona c'è un gruppo di persone che hanno i titoli di essere giudici del tribunale corte dei conti amministrativisti magistrati amministrativi che si spartiscono tutta una serie di poltrone che devono essere obbligatoriamente occupate da questi e loro sono meno delle poltrone per cui lo spoil system consiste nel fatto che se cambia governo questi ruotano vanno a controllare altre prevenze questa roba lì va buttata tutta via cioè quella lì va a cancellare altri milioni di voti persi però mi dispiace quella roba va buttata via quel pezzo quella idea che esiste un corpo separato di magistrati amministrativi che è lo Stato perché lo Stato sono loro il potere vero sono loro tra l'altro con questa classe politica che non sa né leggere né scrivere questi che diventano sottosegretari fondamentalmente li abbiamo visti negli analfabeti è ovvio che questi signori che sono giuristi anche sofisticati con una certa visione del mondo sono loro il potere decidono loro quello che si fa quello che non si fa perché quando questo qua va dal ministro gli dici guarda signor Ministro questa roba non si può fare e tu gli dici ma perché ah no perché guardi c'è questo regolamento poi c'è quell'altro poi c'è la Costituzione poi c'è quest'altra legge c'è la legge quadro copertura di spesa non si può fare mi dispiace non si può fare ha governato lui non ha governato e quindi mi dispiace lì questi bisogna buttarli via tutti saranno nemici del dream dream ma bisogna buttarli via tutti ce li va cambiato cioè la dirigenza ministeriale è una roba che se Alberto Forchieri diventa Ministro dell'Industria si sceglie lui i suoi top manager e se la gioca e loro se la giocano con lui e se Alberto fa successo bravi loro bravi lui se fallisce via Alberto e via loro cioè io la vedo così ah ma figurati se non la vedo così anche io però ti dico mi chiede c'è poco da dire è un processo lungo lungo eterno ma devi incominciare da qualche parte e soprattutto l'ideale sarebbe abbandonare il sindacato della pubblica amministrazione ma questo è anticostituzionale per cui il sindacato è deleterio sì ho l'impressione anch'io mi dispiace non è mentre la CGL la FIOM e compagnia sarà deleterio un po' tutto sommato ha tenuto lì la gente in fabbrica e anche purtroppo ha vallato questi bassissimi stipendi il sindacato del pubblico o il macello però non possiamo questo è anticostituzionale quindi non è una proposta che è sensibile da farsi però smussare possibilmente lei mi sta dando delle idee pericolose sto pensando sì però forse si può costruire un meccanismo di rappresentanza sindacale che sia più responsabile ecco è difficile ma pensare a una maniera di coinvolgere il sindacato del pubblico impiego e renderlo corresponsabile dell'efficienza del ministero che lui gestisce perché alla fine questo sindacato questi dipendenti pubblici sono cittadini occorre costruire dei meccanismi per cui che li rendano responsabili di fronte ai loro concittadini cioè il dipendente dell'azienda team o quello che vuoi tu o Fiat ecco Stellantis ha una maniera di essere corresponsabile davanti ai suoi cittadini che è se il prodotto che faccio è uno schifo e non me lo compri io perdo il posto l'azienda chiude quindi di fatto c'è alla fine alla fine arriva la punizione arriva se l'impresa è piccola poi ha maggior ragione si arriva la punizione senza che in mezzo ci sia la possibilità di aggiustare ma la punizione arriva sì se l'azienda è molto grande l'ultimo operaio l'ultimo dipendente di linea che disgraziato decide nulla e fa nulla avvita non si avvita più il bullone ma insomma capitemi ha una responsabilità molto piccola però la punizione arriva anche su di lui cioè se l'intera catena dell'azienda non funziona meno premi di produzione meno possibilità di cassa integrazione minori aumenti di stipendio esattamente quando arrivi all'impresa piccola poi il rapporto col cliente col consumatore immediata cioè perché il fruttivendolo ti sorride ecco perché è relativamente più facile gestire un'impresa piccola in Italia il fruttivendolo alla fine se non ti sorride e ti tratta pesci facci ci sei vado a prendere la frutta in pescheria arrivederci va a far culo il dipendente pubblico questo problema non ce l'ha il sindacato ancora meno e invece occorre costruire sto pensando di vedere qualcuno deve pensarci io non sono un uomo che abbia conoscenze specifiche in questi temi di tecniche metodi di gestione del personale però ci vuole cioè nella stessa maniera che il sindacato tedesco ed è un grande punto di forza della metallurgia di tutta l'industria tedesca compartecipa alla gestione io direi che questo è un principio che va introdotto nel settore pubblico italiano occorre renderli compartecipi deve esserci il sottosegretario sindacale cioè non lo so una roba sono convinto di questo sono convinto che sia che sia importante questo cioè deve esserci una maniera che il cittadino ti premia o ti punisce perché gli hai fatto i servizi e poi le cassate degli imprenditori vanno monitorate non è che gli imprenditori siano al di sopra di tutto purtroppo eh no e non lo sono i dirigenti ministeriali la stessa roba prima parlavamo di quel discorso del valore aggiunto del settore pubblico che è a costo mentre invece se lo facessi bene sarebbe un plus un bonus sarebbe bello poter mostrare il malus italiano ma credo che si possa come si potrebbe fare ah basta calcolare il numero di servizi beh ci sono varie maniere bisognerebbe pensare prodotto per prodotto no sulla giustizia già un po' si fa io mi ricordo stato un periodo mi sono interessato ci sono vari report di confronto internazionale chiamiamo così di performance del settore della giustizia per tipi di reati il tempo che ci mette il processo a concludersi il numero di volte la percentuale di casi aperti al pubblico ministero che falliscono che anche quello è un indice se tu hai un pubblico ministero che ti istruisce cento casi cento 95 alla puttana esatto 95 finiscono che non completa che va oppure addirittura che vengono assolti vabbè questo qua non c'è altrove in America non viene rieletto in America c'è un meccanismo per esempio dei stricte attorni che fallisce col crimine non viene rieletto dei stricte attorni che fa persecution a vuoto e diventa quello che in Italia chiamano come si chiama persecuzione non viene rieletto non viene rieletto qua no qua rimane là quindi ci sono bisogna pensarle infatti su una giustizia sarebbe bello poter dire agli italiani guardate cosa ci costa la pubblicizzazione siamo veramente meno ricchi di quello che noi pensiamo di essere ottima idea bisognerebbe davvero farlo sarebbe una semplificazione nei passaporti il tempo quanti passaporti per giorno fai per dipendente perché hai il numero di dipendenti assegnati hai il numero di passaporti che emetti per anno per mese quello è un indice di performance nella scuola è più complicato ma nella scuola già ci sono e sappiamo purtroppo ma va a finire lì capiamoci che quella è poca amministrazione lì c'è il problema invalsi c'è il problema della valutazione parliamo neanche un po' sono sicuro che siamo d'accordo lì degli 8 milioni di voti persi 3 milioni e mezzo sono lì perché c'è un milione e mezzo circa tra insegnanti personale amministrativo eccetera del settore scolastico tutto intero compreso l'università con appunto parenti famiglie amici però lì c'è un po' di speranza perché poi spuntano continuamente c'è tanta gente che fa l'insegnante in Italia con grandissima passione e coscienza ma sai anche nelle pubbliche amministrazioni ci sono delle bravi persone solo che sono mosche rare capito sono mosche rare ma io voglio il loro sindacato perché lì c'è un'unica maniera io credo di riuscire c'è due canali attraverso cui puoi toccare la pubblica amministrazione e l'efficienza una costruire canali attraverso cui il consumatore finale il cittadino mandi un segnale Brunetta povero nella sua brunettità si era inventata le puttanate delle faccette quello è Renato mi metto la faccetta buono cattivo però meccanismi più seri e l'altro è il controllo interno del collega che letteralmente ha una forma non necessariamente personale perché se la metti sul piano personale è come avere continuamente c'è Michele che viene a romper i coglioni tutti i giorni Alberto e lavorano assieme Alberto a un certo punto lo manda a fa culo e viceversa quindi l'aspetto personale perché credo che è quello che blocca molto tutte le volte che trovi il dipendente pubblico che ti dice ma guarda che io lavoro sì purtroppo ho visto questo collega e l'altro e tu gli dici ma perché non come cazzo faccio intervenire non posso andare letteralmente da quello dello sportello accanto a protestare a protestare tutti i giorni perché la sua pausa a caffè dura il quadruplo della mia perché nel frattempo va a farsi anche altre cose giusto? vabbè quando c'ero io nei ministeri all'ora di pranzo c'erano o anche dopo c'erano gli ascensori intasati di gente che andava a fare la spesa io mi ricordo i mercatini che giravano da un ministero all'altro dirò davanti al ministero era una roba da ridere la gente usciva io mi ricordo quando facevo quel breve periodo che faccio i pagliarini io mi ricordo che Mimmo aveva provato ma anche lì la coda davanti ai tornelli per la fine dell'orario cominciava mezz'ora prima mezz'ora prima al ministero del bilancio al tempo c'era il ministero del bilancio al 20 settembre era una roba da ridere cioè scendevi mezz'ora prima all'orario di lavoro c'era già la gente in colo perché mi riferisco a prima con Andreato a prima con Andreato quindi prima esatto e veniva dice ma mi ricordo Mimmo dico ma questi che cazzo fanno ecco voi sono allora è uscita dico è l'una è vera no niente dobbiamo dobbiamo microciparli tutti bella da qualcosa bellissima metafora siamo persi un altro milione un altro milione di voi un altro di quelli che non capiscono la metafora un altro milione però il problema è esattamente quello cioè le altre robe tipo trovare il sindacato di quelli che lavorano che quindi anonimamente però cioè ci vuole un sistema di controllo reciproco perché un problema di informazione nell'ufficio decentrato sono in sei sono in sette sono in dodici quello che timbra e poi va via lo sanno i colleghi cioè si crea una situazione di essere travestime mengrocipato noti che va in mutande a timbrare e poi in mutande il chip lo segue no il gps dice è tornato a letta è andato al bar la metafora è oltre però quello è il problema il problema è grossissimo quello della pubblica amministrazione quasi insormontabile però a noi ci penalizza in un modo straordinario va affrontato va affrontato i grandi paesi sono tutti i paesi amministrati bene non ci sono esempi di paesi amministrati male sì l'India per certi periodi capito però generalmente i grandi paesi come la Cina per esempio hanno una pubblica amministrazione molto buona ah poi mano a mano che cresci più ti avvicini alla frontiera della crescita perché sai l'India quando sei estremamente povero esatto spazi di crescita però il vincolo dell'India quando si troverà a fare la trappola del reddito medio sarà la pessima pubblica amministrazione e infatti una parte della trappola del reddito medio c'è anche la legge Messico per esempio che conosco bene tu sei uno che teorizza la messicazia il dramma del Messico è l'amministrazione pubblica l'intero stato messicano è una roba corrotta da cima a fondo dal zocalo all'ultimo peore ed è guarda alla fine se vogliamo risumere perché le multinazionali non investono in Italia alla pubblica amministrazione c'è una colpa in tutte le sue sfaccettature quindi meglio che chiunque siano i dirigenti di questa cosa si pongano il problema serio nessuno vuole andare in un paese mal gestito assolutamente nessuno vuole andare e tanto sai questo qua lascia che gli renda onore che poi a te piacciono le storie accademiche lo so il mio vecchio uno dei miei grandi maestri che non c'è più Ronald Wilfred Jones che era un grande quello di Caves and Jones un signore che ha fatto la storia della teoria del commercio internazionale mi ricordo nel commercio internazionale tutti piacciono insegnare la teoria dei vantaggi comparati quelle di Riccardo e Ron quando eravamo quando ero studente quando era già allora era uno sveglio che vedeva le cose dice guarda col cambio tecnologico in corso mano a mano che i fattori di produzione in una scuola si chiamano così che è l'impresa diventano mobili globalmente possono spostarsi da un paese all'altro perché non è più come il vino di Porto che lo faccio a Porto perché c'è il sole per trattenerli contano i vantaggi assoluti diceva lui ragazzi vi dovete capire il vantaggio assoluto e la pubblica amministrazione di efficiency of the public service me lo ricordo l'espressione in inglese è parte del vantaggio assoluto i fattori di produzione vanno dove i servizi pubblici sono di alta qualità è così perché per ogni grande azienda per ogni azienda avanzata è un costo gigantesco questa cosa qui dovremmo enfatizzarla sempre enorme 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 secondo me è una bella parte della spiegazione del perché anche l'innovation economy ricade poi si fa fatica a creare un'innovation economy in un paese amministrato male capito è più facile fare un paese amministrato bene un'innovation economy come si deve anche perché vedi i paesi baltici per esempio che stanno attirando ma vedi anche l'Olanda dicono ma perché siete mai stati in Olanda l'Olanda viene un po' da ridere un italiano perché sono di un'efficienza di una precisione e anche di una rigidità non c'è tolleranza totale però cazzo funziona ecco questa è un'altra questione concettuale nel settore pubblico come in tutte le cose che basano su regole o sei un po' svizzero nel senso di tolleranza zero o più o meno zero oppure i meccanismi di sì vabbè dai cinque minuti sì tra l'altro in Italia a me viene da ridere che la gente dice il treno era quasi in orario sono tutti contenti a Tokyo spaccava il secondo deve spaccare il secondo il treno cioè il signore che poi li guardi in stazione Italia ti rendi conto i treni a volte accumulano orari perché questi stanno chiacchierando ma perché davvero perché deve finire di fumare la sigaretta tanto un minuto ma te pardon appunto il microchip ci vuole anche lì cioè il minuto qua e l'altro minuto là poi sono sette minuti poi la linea occupata i sette minuti all'improvviso diventano 22 ed è il disastro due slogan vanno microchipati abolire il liceo classico già da soli questi sono 8 milioni di voti andati dai entro sera secondo me arriva quindi l'improvviso Grazie a tutti.